Sono state elaborate numerose teorie sulla genesi dell'ansia. Alcune la fanno derivare da conflitti psichici già esistenti. Altre privilegiano la componente biologica, vale a dire le modificazioni di alcune sostanze chimiche presenti nel sistema nervoso, dette neurotrasmettitori. Da queste modificazioni deriverebbero poi i disturbi psicologici. I neurotrasmettitori coinvolti sarebbero noradrenalina, serotonina e GABA, acido gamma-aminobutirrico. Esperimenti svolti su animali hanno dimostrato che la stimolazione di aree cerebrali precise come il locus ceruleus, dove ci sono cellule nervose che utilizzano la noradrenalina, induce un comportamento simile alla paura, mentre la sua asportazione ne impedisce l'insorgere. Un secondo sistema neuronale presente nel RAF con proiezioni verso la corteccia e l'ipotalamo è responsabile della modulazione dell'ansia grazie alla serotonina. Il terzo neurotrasmettitore, il GABA, è potenziato dalle benzodiazepine, che sono i farmaci ansiolitici di più largo consumo. Grazie a questa azione farmacologica si ottiene una riduzione dei livelli d'ansia. Al sistema limbico, che possiamo considerare la sede delle emozioni, giungono informazioni dai sistemi noradrenergici e serotoninergici. Quest'ultimo contiene anche molti reggettori GABAergici e ciò avvalora l'ipotesi che le emozioni abbiano una base chimica.